Madrid-Napoli, lei guarderà la partita a San Giacomo come ha annunciato ieri, si dà sento di fare un pronostico? No, pronostico no perché non li ho mai fatti e quindi non romperò questa abitudine in una giornata così importante, importantissima, carica di emozioni, di concentrazione e di attesa perché veder giocare la nostra squadra in uno degli stati più prestigiosi del mondo è un grande elemento di prestigio, poi ci auguriamo che il Napoli faccia una grande prestazione in modo da inorgoglierci ancora di più.